Due esplosioni nella serata di martedì hanno scosso la capitale dell'Afghanistan, Kabul. Si sono verificate nei pressi della residenza del ministro della difesa afgano, Bishmila Khan Mohamadi, che comunque non si trovava in casa. E' un altro segnale della minacciosa avanzata dei talebani, ormai inarrestabile, dopo il ritiro definitivo delle truppe straniere dall'Afghanistan, cominciato il primo maggio scorso. Il doppio attentato è avvenuto dopo che gli Stati Uniti, nelle ultime 72 ore, hanno ripreso ad effettuare raid aerei contro le postazioni dei talebani nei pressi di Kandahar, Erat e Al-Ashkargah, città ormai nelle loro mani.